Loro sono Donny e Hope, sono due cagnoloni di 6 anni e sono arrivati qui in canile da noi quando avevano pochi mesi. Al contrario del suo fratellino Hope non è potuta andare subito in adozione perché appena arrivata ci siamo accorti che qualcosa non andava e infatti aveva un grosso tumore che le occupava la parte destra del muso. Dopo varie consultazioni un chirurgo deciso di intervenire e per salvarla le ha dovuto sportare la parte inferiore della mandibola destra. Non è stato un percorso facile ed è per questo che si chiama Hope proprio perché la speranza non ci ha mai abbandonato. Vicino a lei non c'eravamo solo noi volontari ma qui in canile ha trovato un amico per la vita che è Donny. Arrivato anche lui a quattro mesi e purtroppo non è mai stato scelto da nessuno ed è ancora qui con noi nonostante sia uno dei cani più equilibrati che abbiamo all'interno del nostro canile. Ecco perché per loro speriamo e ci auguriamo di trovare un'adozione di coppia per riuscire a non separarli e a continuare questo loro rapporto unico al mondo. Speriamo abbiano presto l'opportunità di scoprire cosa significa l'amore di una famiglia e il calore di una casa e se volete donargli questo amore chiamateci. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce, se ti rubo un bacio quando sei distratta in mondo che male c'è, portami con te in questo viaggio senza meta né destinazione, portami con te, portami con te ancora un po' più in là Hope e Donnie sono davvero due meravigliosi cagnoloni, è una coppia inseparabile questa quante ne hanno passate insieme, sono riusciti ad andare avanti e la nostra Hope ha trovato in Donnie un sostegno, una guida, un amico sincero un punto di riferimento anche in quei momenti così difficili come noi abbiamo bisogno di non essere soli quando siamo in difficoltà, quando soffriamo bene, anche per i nostri animali è così e Donnie è stata quella colonna alla quale la nostra Hope si è appoggiata lui con la sua saggezza, il suo equilibrio che ci racconta la volontà di essere una delle caratteristiche principali di questo cane è riuscito a tenerla tranquilla, a farle comprendere che tutto si poteva superare e così è stato e oggi Hope è una cagnolina serena, bella perché bellissima, felice insieme a suo Donnie che è davvero un cane eccezionale si tratta di una coppia che non può e non deve essere separata amici, numero di telefono per adottare Hope e Donnie adozione del cuore al 346 52 81965 oppure ecco me ha detto